Oh eccoci qua, eccoci qua Vogliamo parlare un po' di Serie B? Ma si dai parliamo di Serie B, ho appena finito di guardare Cesena Reggiana Ha vinto la Reggiana 2 a 1 signori Questo è uno strappo verso la Serie B Davvero decisivo E a proposito di Serie B Che è successo in questa settimana Diciamo niente di particolare Niente di diverso dalle scorse domeniche Non ci sono stati granché scossoni Abbiamo praticamente solo pareggi al vertice Pareggiato il Frosinone a Palermo Pareggiato il Genoa a Modena Pareggio fra Bari e Cagliari Il su Tirola pareggiato in casa In casa del Cosenza C'è la Reggiana che si fa rimontare Da 2 a 0 2 a 3 a Cittadella Io non ho visto il motivo dell'espulsione di Fabiano Che tra l'altro aveva fatto un bel gol Reggiana che si era portata sul 2 a 0 Fabiano e Hernani Poi 3 a 2 per il Cittadella Sembrava potersi rimettersi in corsa Invece adesso è sotto il Bari Sotto il su Tirola Perde anche il Parma In casa con l'Ascoli Perde la Ternana Nel derby col Perugia Dove ho già accennato per il video In onore di Ilario Castagnier Diciamo che in questa settimana Sono successe più robe in coda Robbe molto più stuzzicanti In coda alla classifica Dove è tornato a vincere il Benevento Con Stellone Occhio che ve lo dissi Stellone salverà il Benevento E allenatore di categoria Non per altro Il Benevento comunque Oh ragazzi Il Benevento è una squadra Che veramente Fai fatica a pensare Che sia in zona retrocessione Cioè Juan Cosimi Giusto per fare un nome Letizia Giusto per farne un altro Sono giocatori Che con la lotta Per la salvezza di Serie B Hanno veramente poco a che fare E poi c'è il Perugia Non ho visto la partita Ma vincere il derby 3 a 0 Questa è ulteriore benzina Ed entusiasmo Per una squadra Che sembrava oramai condannata Alla Serie C Invece adesso sarebbe salva Salva Incredibile Incredibile Ma tutti i complimenti Vanno fatti Vedete ragazzi Noi possiamo fare Tutti Possiamo farci Tutte le seghe mentali Che vogliamo Sul bel gioco Alla fine Sono gli allenatori Di categoria Che ottengono risultati E Castori lo è Castori Per questa categoria È uno che raramente Sbaglia Esordio Compari anche per oddo Sulla panchina Della Spal Contro il Como Spal che È messa male È malissimo È messo il Brescia Va bene Non mi voglio stare a ripetere Un'altra sconfitta Ora sulla pagina C'è Possanzini Ma questa è una squadra Avviata dritta In Serie C Ha preso una china Veramente dalla quale Sarà difficilissimo Riprendersi Il Fremor è stato Che non è ancora Deciso niente Paradossalmente Sta meglio il Cosenza Che tra l'altro Ha fallito un calcio Di rigore Quella su Tirol Sta meglio il Cosenza Che il Brescia Il Cosenza Ultimo in classifica Sta meglio del Brescia E questo è tutto a dire Poi A Cosenza Comunque c'è un pubblico Che sostiene la squadra Mentre a Brescia C'è Lino Un altro po' Deve girare con la scorta Boh Poi c'è il Venezia Che ha fatto un buon punto A Pisa Come vedete Anche Anche Della zona bassa Della classifica Ce n'è Niente è deciso Ragazzi Niente è deciso Classifica la mano E anche guardando Allo stesso Cosenza Io non lo vedo Non lo vedo Definitivamente spacciato Perché ultimamente Sta facendo belle partite Il Cosenza Anche a Bari E alla fine Ha perso di misura 2 a 1 Ma comunque Se l'è giocata E a proposito di Bari Che ha quanto Il Cagliari All'ultimo Signori Però diciamo Che è stata una giornata Tutto sommato Interlocutoria Dove non ci sono stati Scossoni Si gran Strane qualche risultato In coda Il Benevento Il Perugia Ma poco altro Onestamente È stata Una giornata Praticamente Una giornata In meno al traguardo Per Frosinone Direi anche per Genoa A questo punto Sapete perché? Perché il Genoa Oramai viaggia In media inglese Discorso sarebbe stato Diverso Se il Cagliari Avesse vinto A Bari Se il Cagliari Avesse vinto A Bari Oddio 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 Nulla è deciso Assolutamente Però Se il Cagliari Avesse vinto A Bari Sarebbe stato Un cliente Molto pericoloso In prospettiva Promozione Diretta Io penso Che alla fine Saranno Fermo restato Che il playoff Può succedere Veramente di tutti Io penso Che alla fine Saranno Genoa E Cagliari Ad accompagnare Frosinone In Serie A Che sono squadre Forti Piazze Importanti Che alla fine Penso Riusciranno A prevalere Certo Una delle due Probabilmente Il Cagliari Doveva passare Per le forche Cagline Dei playoff Però Al momento Per quel che Si sta vedendo Davvero Ma perché Non vedo Oddio Non vedo Allo stato attuale Una squadra Che in zona playoff Può infastidire Il Cagliari Bari Regina Su Tirol Ma non penso Proprio Paradossalmente Il Cagliari Dovrebbe temere Più Squadre come Parma Come Pisa Palermo Io forse nel Cagliari Davvero Dovei Aver paura Di queste squadre Di queste squadre qua E non Di Bari Su Tirol Regina Perché non ce le vedo Dar fastidio al Cagliari In un eventuale playoff Ma Più Parma Pisa E Palermo Che le altre Comunque Era Il resto Un campionato Vincente Che vi invito A seguire Poco altro Da dire Iscrivetevi al canale Domani Vedrò di fare video Sul Sulla Serie C Dai Perché oggi ho visto Cesena Reggiana Una partita Che Onestamente La Reggiana Meritato di vincere Si vede Che è più forte Oggi si è visto Nel Girono E B Chi è la più forte E a questo punto Penso che Oddio Mancano ancora Una decina di partite Però Per quello Che si è visto Stasera Penso che oramai Sia la seconda squadra A prendere il largo Verso la Serie B Ne parliamo Nel video Che farò Sulla Serie C Voglio vedere Un po' di highlights Che non ho avuto tempo Fra Giornale Consigli comunali E tutto il resto Sono stato molto impegnato Raga Iscrivetevi al canale